Il Fiorenzuolo è bloccato in casa dalla Bagnolese, così il Lentigione opera il sorpasso in testa. Il Royale Fiore crolla in casa con la Meletolese e il presidente Rizzo annuncia la rivoluzione. Se ne vanno ben sei giocatori. In promozione pare interno della Castellana con il Carignano secondo della classe, mentre il Fontana Audax torna con quattro gol sul groppone dalla trasferta di Soragna. In prima categoria prosegue invece il duello a suon di vittorie tra Gotico Garibaldina e Carpaneto. I ragazzi di Costa stendono il vigolo grazie al gol del solito Raffo. La squadra di Paganini la spunta in extremis nel derby con la Valtidone. Perazzi, ancora lui, è decisivo e i bianco-azzurri tengono così a tiro la capolista.